Musica Iglesias fa il suo ingresso la primavera sul Citano. Questa mattina in città inaugurazione dell'evento fra strade adobate, stand e arrosti in piazza Sella. 23 bambini hanno indossato una maglietta con la scritta di ogni comune che parteciperà all'evento itinerante. 24 dal Tribunale di Cagliari all'arresto per droga nella SP2. Niki Spiga, già noto, e i carabinieri finito in manete per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, guida con patente sospesa e violazione degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria. Sardinian Job Day, domande e offerta di lavoro locale. Dal 7 all'8 maggio a Cagliari un evento promosso dalla regione per chi è in cerca di occupazione. Si potranno sostenere colloqui, presentare curriculum e frequentare laboratori. Trip Advisor è il Museo del Carbone, primo tra i musei della Sardegna. Il sito è di recensioni turistiche. Colloca al primo posto il Museo di Carbonia, tra quelli più interessanti da visitare in tutta l'isola. Ben ritrovati nel Tg di Canale 40. L'avete sentito nei titoli, è stata inaugurata questa mattina ad Iglesias la Primavera Sulcitana, la manifestazione itinerante che accoglie i visitatori alla scoperta del sulcis iglesiente nella sua stagione migliore. Prima tappa dell'evento, appunto Iglesias, dove stamattina alle 11 in Piazza La Marmora c'è stato il taglio del nastro di Primavera Sulcitana e che da qui a giugno toccherà tutti i 23 comuni del territorio. L'inizio della Kermesse, che durerà in città anche domani per tutto il giorno, è stato salutato dai bambini che hanno indossato le magliette con il nome di 23 centri del sulcis iglesiente e che partecipano tanta gente fin dalle prime ore della mattina. Dagli organizzatori e dai rappresentanti delle amministrazioni è stata ribadita l'importanza nel fare il sistema per rendere più forte il territorio nel proporre la sua vera ricchezza, che non è il carbone, è stato detto, ma le innumerevoli attrattive ambientali, culturali ed enogastronomiche. Stand, associazioni, operatori turistici, artigiani, hobbysti, operatori commerciali della città si hanno allestito stand e prodotti migliori. Le strade del centro sono state adobate con fiori e piante. Le prenotazioni alle escursioni sono esaurite. E staremo a vedere poi domani. E adesso passiamo all'avvertenza Saremar. Col processo di liquidazione arriva anche l'annuncio del licenziamento collettivo che diventerà effettivo dal 1 gennaio 2016. A rischio ci sono 167 lavoratori. La compagnia di navigazione, che garantisce i collegamenti tra Sardegna, Isole Minori e Corsica, si avvia verso la privatizzazione. Nonostante gli scioperi dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, l'avvertenza è ancora in alto mare. I sindacati preoccupa la possibile perdita dei posti di lavoro qualora la Saremar dovesse finire in mani private. Oltre ai 167 lavoratori diretti ci sono anche, ha detto Ciro Gargiullo della Federmar-Cisal, anche i lavoratori stagionali, circa 80, sia la Maddalena che a Carlo Forte. Complessivamente, numero complessivo. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un incontro all'assessore regionale ai trasporti per tutelare in primis l'occupazione. Passiamo alla cronaca. Va a Cagliari per la messa in prova ai servizi sociali. Ne approfitta per rifornirsi l'idroga, ma viene fermato dai carabinieri di Carbonia in un posto di blocco sulla strada del rientro. Il servizio. Stava rientrando a Sant'Antioco dal tribunale di Cagliari, dove nella mattinata aveva consegnato i documenti per la messa a prova al servizio sociale, ma ha approfittato della trasferta nel capoluogo per rifornirsi di droga. Fermato a un posto di blocco è finito in manette. Si tratta di Pietro Spiga, conosciuto come Nicchi, 50 anni, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo era già stato arrestato nei giorni scorsi a San Giovanni Suergio insieme ad un amico dopo un intervento dei carabinieri, richiamati da un automobilista, inseguito lungo la strada e minacciato dai due. Ieri i militari, in un posto di blocco nella provincia Le 2, in località Barbusi, lo hanno visto arrivare in auto. Conoscendolo e sapendo, peraltro, che l'uomo è senza patente perché gli è stata sospesa, lo hanno fermato immediatamente e sottoposto a perquisizione. Nascosto in un giubbotto lasciato all'interno della vettura, i carabinieri hanno trovato un panetto di hashish del peso di un etto. Spiga è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, guida con patente sospesa e violazione degli obblighi imposti dall'autorità giudiziaria. L'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia di carabinieri di Carbogne e sarà giudicato con rito direttissimo. Sardinian Job Day, un evento dedicato completamente a lavoro, uno spazio d'incontro fra domande e offerta di lavoro. Si parlerà di politiche attive, si potranno frequentare laboratori che aiutano ad acquisire maggiori competenze ed efficacia nella ricerca del lavoro. L'evento si svolgerà dal 7 all'8 maggio a Cagliari nella struttura polifunzionale Terminal Icnusa, cioè nel molo Icnusa. Nell'ambito dell'evento si terranno anche seminari tematici, incontri facilitati con le imprese, diretti ai giovani laureandi e neolaureati, potenziali fruttori del programma Master & Back che in questo modo potranno orientare con maggiore consapevolezza la scelta di un'eventuale prosecuzione della formazione post-laurea. E informazioni maggiori si possono trovare nel sito della regione. Essardo, il principale fornitore di latte o vino in polvere della Cina, alimenta. E questo è il suo nome ed è un'azienda agroalimentare di Macomere. Vediamo. Essardo, il principale fornitore di latte o vino in polvere della Cina, alimenta. Azienda agroalimentare di Macomere quest'anno invierà circa 400 tonnellate di prodotto per la preparazione di latte per l'infanzia e bevande a base di latte per adulti, diventando così l'unico esportatore europeo di latte o vino in polvere e il principale esportatore italiano di prodotti lattiero caseari in Cina. Un interessante esempio di imprese locali che fanno scommesse rilevanti e puntano sulla internazionalizzazione, riuscendo a conquistare importanti fetti di mercato all'estero, ha detto il vicepresidente della regione, Raffaele Paci, che ha incontrato il direttore generale di Alimenta, Simone Colombo. Nel 2014 le esportazioni italiane di prodotti lattiero caseari in Cina erano costituite da circa 1.500 tonnellate di formaggi per un valore di 11,7 milioni di euro, 4.700 tonnellate di latte vaccino Utt per un valore di 4,8 milioni di euro. Ipotizzando una certa stabilità delle esportazioni di latte confezionato di formaggi, le esportazioni di Alimenta per un valore di circa 3 milioni determineranno un incremento a livello nazionale del 20%. Fino al 2014 nell'Unione Europea era autorizzata la produzione di latte per l'infanzia solo da ingredienti vaccini. L'ok agli ingredienti a base di latte di capra è arrivato sotto la spinta degli olandesi, che sono i principali produttori europei di latte di capra in polvere, mentre resta vietata la produzione di ingredienti ovini, nonostante sia indiscutibilmente riconosciuta la qualità e i benefici dei latte di pecora. Sarebbe auspicabile avviare un percorso con l'autorità europea per la sicurezza alimentare, perché finalmente anche al latte ovino vengano riconosciute le possibilità di utilizzo autorizzate al vaccino e al caprino, aggiunge Colombo. In Cina, al contrario, c'è una grande attenzione per la qualità dei prodotti e il latte di pecore è considerato il latte più digeribile per i bambini, meno propenso a generare allergie e quindi il più sano. Nuova energia per Carbonia e per il territorio. Enel fa sapere che ha rinnovato la cabina secondaria di Via Verne con la manutenzione delle apparecchiature elettromeccaniche, la sostituzione delle apparecchiature a comando manuale, con l'installazione di nuovi interruttori di moderna tecnologia, automatizzati e telecomandabili a distanza. Le attività eseguite, fa sapere Enel, oltre a garantire un servizio più efficiente e continuo nelle situazioni ordinarie, permetteranno, in caso di disservizio dell'elettrodotto di media tensione che alimenta la cabina, di isolare la sola parte di linea fuori uso grazie all'automazione e al telecontrollo a distanza che consentirà di ripristinare in breve tempo l'energia elettrica. Quindi la cabina sottoposta ai lavori alimenta circa 60 forniture nel centro del paese, in particolare nelle vie di Santa Caterina, via Lucia Fontana, via Engrimattis, via San Giuseppe, via Carlo Carra. TripAdvisor, il sito di recensioni turistiche, colloca al primo posto nella classifica dei musei da visitare in Sardegna il Museo del Carbone della Grande Miniera di Serbariu a Carbonia. Secondo nella classifica il Museo Etnografico di Luras, terzo posto Museo delle Maschere di Mamoiada, all'ottavo posto il Museo Archeologico Nazionale di Caglieri. Secondo il sito la Sardegna non è soltanto mare e spiagge, ma presenta anche un'offerta museale assai variegata per coloro che desiderano conoscere la Sardegna in tutti i suoi aspetti. Ripetizioni di matematica completamente gratuite in vista della prova scritta dell'esame di maturità per i licei scientifici. L'iniziativa arriva dal circolo di sinistra Ecologia Libertà Zorba il Gatto di Carbonia che si appresta ad iniziare una serie di incontri programmati per sabato con cadenza regolare a partire da oggi, dalle 15 alle 18, nella sede di Via Dalmazia al Civico 40 fino al prossimo 10 giugno. Per informazioni e prenotazioni, questo è il numero di telefono. 340 57 53 058 Lunedì 20 aprile la comunità di Sant'Antioco celebra il quarto centenario del ritrovamento del corpo del santo martire patrono della Sardegna e poste italiane su richiesta dell'amministrazione comunale attiverà a Sant'Antioco un servizio postale temporaneo con l'emissione di un annullo speciale firatelico delicato appunto al quarto centenario del ritrovamento del corpo del santo. Lo sportello postale sarà attivato in apposito spazio allestito in Piazza Italia e sarà operativo dalle 8 alle 14. E con questo è tutto, il Tg termina qui, adesso il meteo e poi il Tg in linguassarda, Noas in curso. Vi ringrazio per averci seguito. La giornata di domenica nel Sulcis sarà caratterizzata da scarsa nuvolosità. Vento da sud-ovest con intensità di 14 km orari. Raffiche fino a 23 km orari. Temperature minime comprese tra gli 11 e 15 gradi e massime comprese tra 19 e 26 gradi.